Ehi, guardarmi come tu non vuoi mangiare. Ehh... Tomara un african man is not uneasy, non è facile. Perché questo è il simbolo africa, devi mangiare questo. Se tu non mangiare questo, è il problema. Come sopravvivere? Ehi, questa è la nostra pasta. E come la nostra pasta è qui in Italia. Devi mangiare, guarda, prendila. E buttala giù. Buttala drittamente giù. Just send it inside. That's it. We have no problem. You keep it strong. Tu devi essere... Questa è forte. Così? Niente miracolo, niente. Solo prendila così. Se qui, just like this. Prendila così. E buttala giù. Andata giù. E finito. You are ok. Come, let's do it. Prova. E try. E try. Sì. Andata giù. Andata giù. You stick on issue. Soggo. Soggo. Yeah. Do it! Dai! Do it! Yes! Yes! That's what I'm talking about! Benvenuto in Africa! Now you're just one of us! You're one of us now! Do it? Give me a hug! Kiss me! I love you with my life! Do it? Take another one! But calm! If not, remove it! If you eat it, it's clean! Don't eat it! Take it and turn it! Take it and turn it like a pan! Take it and turn it like this! But this is for you! For me, I need one big! For you, I need one big! For one so big! And then, it's fine! And then, it's fine! Because it's fine! For me, I'm going to put it on your body! For me, I'm going to put it on your body! Sì, è così, dammi ancora un bacio, un altro, no, sono contenta così, piano piano, piano piano, gradually get to Jerusalem, all right, piano piano, piano piano, piano piano, questa è carne, carne, this is a beef mix, carne, è bello, è buona, wow, yeah baby, manda, tutto, 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 è fantastico, benvenuto, benvenuto, da un altro passo, piano piano, piano piano, dai, gira, se tu non gira, si tappa la pancia, gira il mondo che deve cadere dentro, o no, se tu non ho girato bene, si, incidentalmente, è rimasta qui, allora, devi bere tutta l'acqua qui, tutte le bottiglie di acqua, prima di scendere, eh, chiama 118, io non voglio, allora, dai, mi preparo, eh, devi tirare bene, mettere bene sul sugo, quello sugo, ti aiuta a scendere giù, se entra la pancia, sei apposso, questa, si dura sei ore, brava, cos'è che si fa? questa si dura sei ore sulla pancia, può lavorare, vai a dove pare, con questo, dopo che hai finito mangiare questo, e allora, hai visto, la gente non conoscono, la gente non conoscono, no, buono, buono, è un po' difficile mangiare la prima volta, ecco, allora, mangiare tutto, mangiare la carne, prendere la carne, mangierò, sei stato bravissimo, io, una domanda come te, non c'è, sei unica, benvenuta a casa, sei nostra, sei uno di noi che è perso tante anni fa sono orgoglioso di trovare te, sei uno di noi, la risa uno di noi, è uno di noi, la testata? no, non sei già la testata, da Cuba, io ho mangiato tutto, vediamo, ho stato bravo io, ho mangiato tutto io, appena in Italia ho mangiato tutto, sono andato in Belgio ho mangiato tutto, è buono, sono andato a Dublin, a Irlanda, ho mangiato tutto, vado in Francia, ho mangiato tutto io, mangio tutto, ma solo che, ora mangio solo il cibo, non è più tutto sei bravo, sei una donna brava questo asubo, mi pare, può dare sta finca, ogni volta che ho fatto questo asubo, con questa bellissima farina speranza della pacchetta, poi mi pareva quanto finito eh andiamo a fare da un bel lavoro 대endi mi hanno mangiato con me si quella è un'altra cosa Quello è il punto grosso, ma questo è il punto, ma ne pesce, pesce buone, buone pesce, e questo è il punto grosso, si prepara un po' di pesce, carne, un po' di pesce macinata, quelli che si seccano su il sole, tantissimo, cosa che si, mischia, posso darmi un po' d'acqua perché devo buttare dentro, se no siamo radunati, allora, la resta è uno di noi, è uno di noi, buono, grazie, io ti faccio una domanda, personale, lo so che con l'amore si fa tutto, ma ti dico, questa pasta che hai fatto ora, è grande pazza, tantissimo grande pazza, io sono orgulloso di te, vuoi dire che tu puoi sopravvivere anche noi una madre natura. Quando ci tocca, tocca, quando ora, quando il vento porta via la tetto, casa, e lì pronto, ho dormito senza tetto, nudo, 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 via amore mio, quindi sei benvenuto, questa passa, vedete tutto che, questo è quello che vive, è benvenuto, da oggi io dico, su sti sei la pancia dura, quando ti entra la pancia di metà dura, immaginanzi non conosco, allora, ho finito, ho finito, grazie mille, grazie bre, abbiamo mangiato bene oggi, oh Dio mio, hello guys, qui's your boy once again, qui's your girl, she's still fine a lesson ancora viva, dopo che finisimo mangiare, mangiare da africani ai musi an Ebba, she's still alive, I taught like calling the emergency Pensava di chiama cento di sotto Ma lei Dolmito bene, stato bene Grazie Dio Tanchi di Gia She's from Cuba Her mom is from India So me I'm African man Real African For an Indian I know how to do it Para mi gente latina No olvidar Seguindo a nosotros en nuestra pagina Call us pretty Lari me recomando Si el video de nosotros tiene cualquier problema Por favor házmelo saber Que nosotros Sistemamos tutto Peace I'm time for watching Peace Peace